Liberate la famiglia Pepi e questa la richiesta del legale Giuseppe Di Pera che sta difendendo tre figli e il padre accusati dell'omicidio Dezio, avvenuto il 2 febbraio scorso a Vittoria. Una lunga relazione è stata presentata alla procura che ha rigettato sia la richiesta di scarcerazione che la misura cautelare alternativa alla detenzione. E' anche emerso che il settantenne Gaetano Pepi è gravemente malato. Per noi l'unico che ha commesso l'omicidio è solo Pepi e Gaetano, un omicidio commesso peraltro per legittima difesa dal figlio Alessandro e non i germani Pepi. Inizia con questa premessa l'istanza ben dettagliata di rimessione in libertà o di una misura cautelare alla detenzione in carcere da parte del legale Giuseppe Di Pera, della famiglia accusata di aver ucciso Giuseppe Dezio, l'agricoltore Vittoriese, il 2 febbraio scorso. Da sei mesi i tre figli Antonino, Alessandro e Marco e il padre Gaetano sono in carcere, sebbene quest'ultimo abbia messo le responsabilità solo sue sul delitto. La procura fino ad oggi ha rigettato l'istanza presentata motivata dall'avvocato. L'ultima la settimana scorsa all'indirizzo della titolare del fascicolo Valentina Botti, che ha sottoposto l'interrogatore nel carcere di Ragusa l'11 agosto scorso e quattro i quali hanno risposto a tutte le domande del PM. Un'istanza che segue quella che aveva già rigettato la PM Giulia Bisello con scritto un succinto, visto si esprime parere contrario, senza dare alcuna motivazione, ma è anche vero che la magistrata non ha l'obbligo di farlo. Il legale Lipera insiste, perché scrive nella relazione, nessuno di questi fratelli può in alcun modo inquinare le prove. Nei confronti di essi nessuno ha ipotizzato alcun pericolo di fuga e assolutamente inimmaginabile alcuna reitera del reato. Per tale ragione l'avvocato Catanese ha richiesto di riformare lo status cautelare con una misura affievolita anche agli arresti domiciliari con il braccio a letto elettronico. Lipera ha fatto sapere che Gaetano Pepi è gravemente malato, ha 70 anni ed è dunque incompatibile con il regime carcerario. I Pepi, secondo quanto riferito dall'avvocato, hanno anche collaborato con la giustizia rendendo delle dichiarazioni sulla dinamica dei fatti che perfettamente coincidono con le perizie spletrate dai periti del PM. Secondo Lipera la misura in atto applicata è assolutamente sproporzionata e ingiustificata, anche se durante l'interrogatorio di garanzia la famiglia su indicazione del primo legale che aveva nominato Santuno Garufi si era avvalsa dalla facoltà di non rispondere. Tranne il capofamiglia che da subito ha messo le sue responsabilità, una tesi che torna a contestare il legale Lipera a colpi di istanza e di scarcerazione o di misure cautelari meno affettive, facendo leva sui riscontri fattuali e oggettivi alle dichiarazioni resi dagli indagati che dunque coincidono, sostiene legale, con le risultanze investigative e con gli esiti dell'autopsia dell'arma del delitto e con le ferite sul corpo di Alessandro Pepi.